Il presidente della regione Abruzzo, Marco Marsiglio, ha partecipato alla riunione dell'unità di crisi per analizzare le misure da adottare a partire dalla giornata di martedì. Alla luce del nuovo decreto legge in vigore per il mese di aprile, i comuni soggetti alle misure più restrittive vedranno anche in Abruzzo applicate le normative nazionali della zona rossa. In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Castiglione, Messermarino, Orsogna, Atessa, San Vito e Casoli, mentre sarà zona rossa il comune di Lentella. In provincia di Pescara escono dalle restrizioni i comuni di Rosciano, Moscufo e Villaceliera. Zona rossa invece per i comuni di Collecorvino, Roccamorice, San Valentino e Abruzzo Citeriore. In provincia di L'Aquila escono dalle restrizioni i comuni di Capitignano, Pizzoli, Santemarie, Prezza, San Benedetto dei Marsi, Magliano dei Marsi. In zona rossa invece i comuni di Celano, Prato La Peligna, Corfigno, Pescina e Cerchio. Infine in provincia di Teramo sono in zona rossa Martinsicuro, Colonnella, Nereto, Santomero e Sant'Egidia La Vibrata, Albadriatico, Canzano e le frazioni di Pietra Alta nel comune di Valle Castellana. Abbiamo revisionato come facciamo tutte le settimane l'elenco dei comuni che hanno necessità di maggiori restrizioni. Alla luce del nuovo decreto legge le restrizioni che entreranno in vigore a partire da martedì, perché come sapete sabato, domenica e lunedì, che è Pasqua e Pasquetta, ci sarà la zona rossa a livello nazionale. A partire da martedì i comuni che saranno soggetti a misure più restrittive verranno applicate le misure previste dal decreto legge, quindi la zona rossa prevista dal decreto Draghi. Per il resto l'Abruzzo complessivamente ha un quadro di miglioramento. L'incidenza che era già abbastanza bassa, è scesa sotto i 160, l'incidenza che si calcola ogni 100 mila abitanti settimanalmente. L'R con T è sceso ulteriormente, in questo momento è a 0,81, anche il limite massimo dell'indice di replicazione è sotto la soglia di 1. Questo avrebbe dato all'Abruzzo per la terza settimana consecutiva una classificazione da zona gialla. Dalla prossima settimana è previsto il ritorno poi sui banchi di scuola. Per le superiori è prevista la didattica a distanza al 50%, mentre nei comuni in zona rossa le scuole saranno aperte in presenza fino alla prima media. C'è la riapertura delle scuole, questo in virtù del decreto legge. Le scuole superiori che dovevano decidere quale percentuale di didattica a distanza hanno annunciato che faranno il 50% di didattica a distanza.